I fratelli divorziati e risposati non sono fuori della Chiesa perché sono battezzati, non dobbiamo reintegrare qualcuno. Lo ha detto il Cardinale Edoardo Menichelli tra i padri sinodali che stanno discutendo di famiglia nel sinodo straordinario indetto da Papa Francesco. Tra i padri sinodali nei confronti dei divorziati e risposati c'è una grande sensibilità d'apertura. Questi fratelli non sono fuori della Chiesa perché sono battezzati, non dobbiamo reintegrare qualcuno. L'importante è ricominciare ad offrire a questi fratelli un accompagnamento che traduce la passione della Chiesa per i suoi figli. Lo ha detto l'Arcivescovo di Ancona Osimo, il Cardinale Edoardo Menichelli. Un accompagnamento, ha aggiunto, che diventa anche istruzione, invito alla conversione con modalità adatte a quella specifica coppia. Un altro avvicinamento potrebbe essere la questione di essere padrino o far parte del consiglio pastorale. Questi sono tutti aspetti che sono emersi nei circoli sinodali. Poi vedremo cosa emergerà nella relazione finale e le decisioni del Papa. La conflittualità all'interno del sinodo, ha proseguito il Cardinale Menichelli, è un leitmotiv che gira da tempo. Sembra che il sinodo sia un covo di nemici. Un conto le varie sensibilità pastorali, un conto la conflittualità. Siamo tutti all'ascolto fraterno con Papa Francesco, ma tutto questo passa attraverso delle sensibilità diverse. La sensibilità non sono conflittualità. Abbiamo goduto di questa diversità della sensibilità pastorale e questo non significa che ci siano inimicizie. Non abbiamo discusso qualcosa che è nostro, ha concluso il porporato. Abbiamo discusso, approfondito e riferiremo al Papa su un valore della vita della Chiesa, il sacramento del matrimonio e della famiglia.